Siamo nel gennaio del 2010, Drew Pyatt vive in una casa a Stockton, in California. In realtà è tipo in affitto, l'abitazione appartiene a sua madre che lavora nel settore immobiliare. Drew è un buon lavoratore, fa il giardiniere e altri lavoretti simili per mantenersi. Lui e sua madre quel gennaio del 2010 invitano Valerie Nessler a stare gratuitamente nella casa, visto che è un'amica di famiglia. Drew decide di accogliere la ragazza per gentilezza, Valerie ha 25 anni, ma non può permettersi di pagare un affitto mensilmente. Inoltre la giovane è una paziente del padre di Drew, che fa il medico in città. Valerie appena entra in casa si dirige in una camera da letto vuota per disfare le valigie. Una sua amica l'ha descritta più volte come una persona gentile e premurosa. È necessario però fare qualche precisazione sul luogo in cui avviene quanto sto per raccontarvi. Alcune zone di Stockton in California non sono sicure, al punto che su alcuni siti è descritta come una delle città più pericolose della California, con uno dei più alti tassi di criminalità violenta negli Stati Uniti. Alcuni dei crimini più comuni a Stockton includono rapina, aggressione, furto con scasso e incendio doloso. Ci sono poche opportunità economiche, i tassi di povertà e di disoccupazione sono superiori alla media nazionale, ma soprattutto l'abuso di sostanze è presente più che mai tra gli abitanti e ovviamente una dipendenza da sostanze può portare a commettere altri crimini. Nonostante ciò fortunatamente Drew abita in un quartiere decisamente più tranquillo, nella parte nord della città. Si tratta di una zona abitata da gente benestante, quindi le persone non hanno paura ad uscire di casa di notte, cosa che invece è fortemente sconsigliata in altre aree della città. Passa qualche giorno ed ecco che nella casa di Drew trova rifugio anche un'altra persona, si chiama Jeffrey Wheatley e ha 48 anni. Si è da poco separato dalla compagna e ha già alle spalle tre matrimoni falliti. Per mesi interi ha vissuto spostandosi da un motel all'altro, non si stabilisce mai in un luogo abbastanza lungo per coltivare qualche relazione, fino a quando Drew gli offre un posto dove stare. Jeffrey si è ritrovato a girare nella zona di Stockton quasi per caso. Una sera ha conosciuto Drew che gli ha raccontato la sua situazione, così quest'ultimo lo ha invitato a stare a casa sua. Chiariamo, c'è abbastanza spazio per tutti e Jeffrey può avere una camera tutta per sé. L'uomo è decisamente in cerca di un nuovo inizio, in quanto la sua vita non è sempre stata rosa e fiori. Jeffrey è nato nel 1961 ed è cresciuto a San José, in California. All'età di 17 anni ha abbandonato gli studi e suppressione della madre si è arruolato nella guardia costiera americana. Si trovava molto bene in quell'ambiente e le cose per lui stavano funzionando alla grande. Purtroppo però, a causa di un brutto infortunio al ginocchio, che richiede anche un intervento chirurgico, viene congedato con onore. Jeffrey, dopo il congedo, non sa cosa fare della sua vita. Prova a lavorare in vari ristoranti in Georgia fino ad arrivare a gestirne uno, ma non va bene, almeno non per lui. Non si arrende e inizia a lavorare come camionista per mantenersi, ma anche in questo caso il lavoro non lo soddisfa. Prova allora a ributtarsi nello studio col desiderio di diventare infermiere. Anche questo progetto, purtroppo, va a rotoli. L'uomo è più alto di un metro e novanta e non è di certo un duro, un attaccabrighe, anzi è molto carino e gentile con tutti. Lui e la sua ex compagna erano soliti portare da mangiare ai senza tetto e per lui quell'attività era molto importante perché ama aiutare il prossimo. Quando Jeffrey si stabilisce da Drew, Valerie abita già in quella casa e i tre coinquilini vanno molto d'accordo. Pare che Jeffrey e Valerie abbiano sviluppato da subito un'intesa. Anche Valerie è una ragazza in difficoltà, proviene da un quartiere molto difficile nella zona est di Stockton. Tra il 2005 e il 2006 Valerie ha dovuto affrontare parecchie difficoltà. Viveva con suo padre e gli era molto affezionata. L'uomo purtroppo si è tolto la vita, quindi la ragazza si è trovata a cercare di elaborare un lutto particolarmente pesante. Inoltre, proprio in quel momento difficile per Valerie, si deve spostare da un parente all'altro perché sua madre non può prendersi cura di lei. Ma nonostante questa tragedia, la ragazza continua ad avere grandi progetti, vuole diventare un giudice e già lavora in tribunale. Purtroppo appena un anno dopo la morte del padre, Valerie ha perso anche Chloe, la sua bambina appena nata, a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante, conosciuta anche come morte in culla. Si tratta del decesso improvviso di un bambino di età compresa tra un mese e un anno, che rimane inspiegato anche dopo una approfondita indagine. Studio che comprende un dettagliato esame delle circostanze e del luogo dove è avvenuta la morte, la revisione della storia clinica e una autopsia completa. Come è normale aspettarsi, è arrivata a questo punto Valerie è crollata e ha iniziato a fare grande uso di sostanze. Più passa il tempo e più diventa palese che Jeffrey, Valerie e Drew sono persone profondamente diverse. Drew tiene in ordine la casa, la stanza di Jeffrey è immacolata in quanto quando era nella guardia costiera aveva sviluppato quasi una mania per la polizia, ma Valerie è l'esatto contrario. È davvero molto disordinata, in camera sua i suoi vestiti non sono nell'armadio ma a terra, tanto che non si riesce a comprendere quali abiti siano sporchi e quali invece puliti. Jeffrey passa la maggior parte del suo tempo a riparare e restaurare una vecchia auto che gli ha regalato suo padre allo scopo di rimettersi in carreggiata. L'uomo è molto preso da questa attività in quanto ha bisogno di un mezzo di trasporto per trovare un impiego. Valerie invece sembra non avere obiettivi, pensa solo a fare festa. Invita a casa tanti amici e conoscenti e tutti insieme fanno uso di sostanze e consumano grandi quantità di alcol. Tra gli amici di Valerie ci sono Alan J. Perryman e il suo ex sfidanzato, ora amico, Robert Turner. Come Valerie, anche Robert ha un passato drammatico alle spalle. Suo fratello William Phillips, detto Moose, è morto giovane. Negli anni 90 William è stato ritrovato in una stanza d'albergo senza vita, con una pistola a fianco. Il proiettile che lo aveva ucciso era entrato alla base del mento, fuori uscendo dal cranio. Il decesso era stato giudicato un incidente. Secondo gli inquirenti, il ragazzo in realtà non si era tolto la vita, ma stava maneggiando una pistola ed era partito un colpo. Robert e la famiglia invece sono da sempre convinti che il ragazzo sia stato ucciso. Credono che sia stata una qualche banda di motociclisti fuori legge. Jeffrey e Robert si conoscono a una delle feste organizzate da Valerie. In più occasioni la ragazza trascina Robert in camera sua e Jeffrey in effetti non pare esserne particolarmente contento, probabilmente perché il ragazzo ha un interesse per Valerie. Ma in realtà Jeffrey non ha motivo di essere geloso perché Robert è impegnato con la migliore amica di Valerie, Amber. Robert è molto vicino ad Amber ed è un buon compagno. La donna ha già due figli dalla precedente relazione e accanto a Robert riesce a trovare un po' di equilibrio. Amber infatti, prima di mettersi con Robert, era in una relazione fortemente tossica. Il suo ex la picchiava e la trattava male, mettendo in pericolo anche i bambini. Robert è riuscito a farla allontanare da quella relazione, facendole capire che gli uomini chiamano le proprie compagne, non le picchiano. Robert con Amber è un vero gentiluomo, le apre la portiera della macchina, la tratta bene e non la dà mai per scontata. I due si frequentano da tempo e Amber sa che Robert sta passando molto tempo con Valerie, ma sa anche che sono vecchi amici e si fida di lui. Valerie dal canto suo fa grande affidamento sia su Amber che su Robert, al punto che una notte li chiama per dargli una notizia sconvolgente. Sostiene di essere stata molestata in casa. Valerie racconta di essersi svegliata nel cuore della notte perché ha sentito che qualcuno la toccava, aveva i pantaloni abbassati e la maglia tirata su. All'inizio le era sembrato un sogno da cui non riusciva a svegliarsi. La cosa peggiore è che il presunto molestatore vive con lei ed è Jeffrey. A quanto pare anche lui nasconde dei segreti. Per Jeffrey le cose sono precipitate proprio dopo l'infortunio al ginocchio. L'uomo è obbligato a dormire nella vasca da bagno così da versare dell'acqua calda sul ginocchio di notte e il dolore è davvero molto forte. Inizialmente i medici li prescrivevano degli antidolorifici per farlo stare meglio. Ma quando Jeffrey sviluppa una dipendenza da queste medicine gliela fanno interrompere. E qui a me piacerebbe davvero appena un enorme parentesi sugli antidolorifici oppiacei e su quante persone in America si ritrovano in una dipendenza senza volerlo, semplicemente per aver assunto degli antidolorifici. Per loro è normale assumere antidolorifici oppiacei anche per un banale mal di schiena insomma. E non lo so, mi è sempre sembrato un po' esagerato ma proseguiamo. I medici quindi smettono di fargli prescrizioni così Jeffrey non trova alternativa e inizia a fare uso di sostanze sia per alleviare il dolore al ginocchio che per gestire la sua dipendenza. Quando l'uomo si stabilisce da Drew fa uso di sostanze da ormai tre anni. La sua vita sociale ne risente e soprattutto il suo carattere cambia drasticamente tanto che si allontana dalla famiglia specialmente da suo padre. L'uomo sostiene che tra lui e il figlio si era eretto un muro insormontabile appena ha cominciato ad abusare di sostanze. Ma la cosa peggiore è che sembra che Jeffrey abbia dei legami con una banda criminale. Ma torniamo alla telefonata di Valerie. Amber non sa cosa pensare e soprattutto non sa se crederle perché sa che spesso la sua amica tende a esagerare. Inoltre è solita mettere zizzania tra le persone probabilmente per attirare l'attenzione su di sé. Amber quindi passa il telefono anche a Robert che però non ci casca perché conosce bene le sceneggiate di Valerie. Arriviamo a marzo del 2010. La vita nella casa sembra andare avanti come sempre ma in realtà ci sono ormai parecchie tensioni specialmente attorno a Valerie. L'atmosfera si fa sempre più pesante ogni giorno che passa. Una notte mentre stanno come al solito consumando sostanze Valerie accende la tv nel momento in cui viene passata la notizia che un uomo è stato trovato senza vita nella zona est di Stockton. Si lascia sfuggire un apprezzamento. Dice che l'uomo trovato senza vita è molto sexy almeno stando alle foto che appaiono in tv. Jeffrey a questo punto si siede sul divano accanto a Valerie e le confida che una volta ha ucciso qualcuno sparandogli in testa. Nel frattempo anche Drew ha iniziato a nervosirsi in quanto Jeffrey durante le feste organizzate da Valerie vende sostanze. Essenzialmente quando le prende per sé ne aggiunge sempre un po' di più che poi rivende a un prezzo leggermente maggiorato per guadagnare qualche soldo. In questo modo permette agli amici di Valerie di fare festa. Drew però chiaramente non vuole che Jeffrey venda sostanze in casa. Un conto è farne uso, venderle è tutt'altra cosa. Decide quindi di dare un ultimatum all'uomo. Se non la smette, lo caccerà di casa. Arriviamo al pomeriggio del 6 aprile quando Drew è in garage. Il suo telefono suona. Dall'altro capo qualcuno gli consiglia di uscire e di allontanarsi da casa perché sta per succedere qualcosa. Quella sera Drew esce e rimane fuori con la sua compagna fino a quasi mezzanotte. Quando torna a casa si rende conto che l'abitazione sta andando a fuoco. Corre quindi in un mini market poco lontano da dove chiama il pronto intervento e i vigili del fuoco. I pompieri arrivano, entrano in casa e iniziano a spegnere l'incendio quando si rendono conto che c'è un cadavere. Limitano quindi l'accesso alla scena e chiamano immediatamente la polizia di Stockton. Agli investigatori l'incendio appare fin da subito sospetto e una volta entrati in casa notano qualcosa di strano. Accanto al corpo senza vita trovano un sacco della spazzatura con all'interno un fucile a canne mozze con due cartucce calibro 12 usate, due coltelli da cucina con delle tracce di sangue. E poi ci sono parecchi vestiti da uomo. La domanda però resta una. Di chi è il corpo senza vita ritrovato all'ingresso dell'abitazione? Gli investigatori ovviamente dopo il ritrovamento di quel sacco della spazzatura sanno che l'uomo non è morto a causa di un incidente. Il corpo è in pessimo stato, circa un terzo è carbonizzato. Nonostante questo tramite le impronte digitali gli investigatori riescono ben presto a identificarlo. L'uomo senza vita trovato nella casa di Drew è proprio Jeffrey Wheatley. Il medico legale analizzando il cadavere parla di violenza inaudita. Trova 32 ferite da arma da taglio su tutto il corpo. Alcune sono molto profonde, altre più superficiali. Jeffrey è stato accoltellato anche agli occhi, alla faccia e alla testa, ma soprattutto gli hanno sparato in faccia con un fucile. La polizia quindi inizia a mettere insieme gli indizi. Il 7 aprile interrogano Drew. È stato lui a chiamare i soccorsi e quando gli investigatori sono arrivati sulla scena l'hanno trovato proprio davanti casa. L'uomo inizialmente è evasivo. Gli investigatori rilevano grandi quantità di benzina in casa, insieme a una tanica vuota. Drew spiega chiaramente che quella tanica di benzina di solito la usava lui per alimentare il a erba ed è certo che fosse in garage. Drew però nonostante sia il padrone di casa pare non sapere niente del cadavere che è stato ritrovato nell'abitazione. Se ricordate nel pomeriggio del 6 aprile l'uomo aveva ricevuto una chiamata in cui qualcuno gli aveva chiesto di allontanarsi da casa fino a sera. Drew in effetti aveva abbracciato il consiglio, si era allontanato da casa ma questa circostanza non la rivela agli investigatori, è la sua compagna a parlare al posto suo. I detective infatti riescono a parlare con la compagna di Drew prima di interrogarlo. A questo punto l'uomo viene messo con le spalle al muro dagli investigatori e nel giro di qualche minuto decide di raccontare la verità. Drew spiega ai detective di temere per la propria vita, ha paura che affidandosi alla polizia chiunque abbia ucciso Jeffrey decida di eliminare anche lui. L'investigatore quindi chiede a Drew chi l'ha avvertito del pericolo convincendolo ad allontanarsi da casa e l'uomo finalmente dice la verità, a chiamarlo, è stata Valerie. Ma sembra che la donna si sia dileguata nel nulla, almeno per ora pare introvabile. Gli investigatori si chiedono cosa possa essere successo, forse è morta anche lei? I responsabili dell'omicidio di Jeffrey l'hanno rapita oppure l'hanno uccisa occultando il suo corpo in qualche zona isolata? La priorità degli investigatori quindi ora è quella di trovare Valerie e a distanza di qualche ora viene ritrovata nella zona est della città, proprio a casa di sua madre. I poliziotti la portano in centrale per interrogarla, non la informano del fatto che c'è stato un omicidio né che sanno del suo avvertimento a Drew. I detective chiedono a Valerie di parlare di Jeffrey Wheatley. La donna sfiga che è solo un suo coinquilino ma insomma non è che parlano molto. Poi ecco chi afferma che secondo lei Jeffrey Wheatley è un nome falso. In realtà Jeffrey si chiama Joe, più precisamente Joe Wheeler e in passato ha fatto una cosa a dire poco terribile. Per dimostrare che Jeff è un poco di buono Valerie racconta agli investigatori di essere stata molestata da lui. Ci capirò qualcosa in più di ciò che si sapeva in precedenza. Quella sera Valerie aveva consumato sostanze e alcol a casa e si era addormentata sul divano. Il suo risveglio era stato traumatico perché si era sentita palpeggiare da qualcuno. A questo punto però Valerie cambia versione e sostiene di aver subito molestie da un amico di Jeffrey e che l'uomo non la protetta. È solo a questo punto che i detective le chiedono se sa qualcosa di ciò che è successo in quella casa poco prima. Valerie è spaesata e risponde che è a conoscenza del fatto che si è verificato un incendio. Questo è quanto le ha raccontato sua madre. Nega immediatamente qualsiasi coinvolgimento sostenendo che non ne sa molto. Ma è abbastanza ovvio che gli investigatori sono convinti del contrario e che sappia molto di più di quanto dice. Il detective quindi decide di rivelarle che stanno conducendo un'indagine per un omicidio. Valerie reagisce con stupore chiedendo chi sia morto. Il detective rimane impassibile dicendo che ci stanno lavorando e che Drew li ha informati di un avvertimento ricevuto al telefono. Valerie a questo punto capisce il motivo per cui la stanno interrogando. Sanno che ha fatto una telefonata a Drew per dirgli che c'erano delle persone arrabbiate con Jeffrey che stavano andando a cercarlo. I detective si focalizzano proprio su quella chiamata d'avvertimento. Le fanno molte domande e di lì a poco Valerie inizia a parlare. Racconta di aver sentito un colpo alla porta mentre si trovava in camera. È uscita in corridoio e ha visto due uomini che erano entrati in casa. Si è spaventata ed è scappata. I detective però continuano ad essere convinti che Valerie conoscesse il nome di quei due uomini. Quindi le chiedono se per caso sa chi fossero quelle persone e se avesse riconosciuto le voci. E alla fine Valerie un nome lo fa. Quello del suo amico Alan John Perryman detto AJ. La polizia però non si arrende vuole conoscere anche il nome del secondo uomo che quella sera è entrato in casa. Valerie fa un altro nome. Probabilmente la seconda persona. Si chiama Nico. Insiste nel sottolineare che lei non ha fatto assolutamente nulla di male. E infatti dopo circa tre ore di interrogatorio gli investigatori la lasciano andare. La polizia arresta Alan J. Perryman la mattina del 13 aprile. L'uomo sostiene di non avere nulla a che fare con quell'omicidio. Ha un alibi. E proprio grazie alle forze dell'ordine. Infatti la polizia di Lodai, una cittadina a nord di Stockton, aveva fermato per un controllo la macchina di Alan in quanto procedeva in modo sospetto. L'uomo sul sedile del passeggero era sceso ed era scappato a gambe levate. La gente perquisendo la macchina aveva trovato una pipetta per fumare stupefacenti sotto un sedile sul tappetino. Stranamente i tappetini nella macchina di Alan il giorno seguente al momento dell'arresto non c'erano più. Solo che è coinvolto in un crimine e cerca di liberarsi delle prove pulendo la propria auto. Alan durante l'interrogatorio dopo un po' sembra cedere. È sicuramente preoccupato per la sua famiglia e rivela ai detective che se racconta la verità rischia l'ergastolo. Alan quindi rimane in custodia. Qualche ora dopo gli agenti richiamano Valerie per interrogarla di nuovo e a questo punto la cambia nuovamente versione. Ammette che in effetti c'era anche lei sulla scena del crimine. Quindi in realtà Valerie non è riuscita a scappare bensì è rimasta perché i due aggressori avevano minacciato di ucciderla se avesse fatto o detto qualcosa. La donna finalmente ammette la verità. Ha visto tutto. Poi aggiunge che non è stato Nico a uccidere Jeffrey ma qualcuno che sia lui che lei conoscevano bene ossia Robert Turner. Valerie qualche settimana prima era andata a casa della sua migliore amica Amber per farle visita. Durante la giornata aveva preso da parte Robert e gli aveva detto che Jeffrey aveva ucciso William Phillips detto Moose ossia suo fratello. La donna in preda alle sostanze aveva interpretato a modo suo la storia che gli aveva raccontato Jeffrey ossia che aveva ucciso qualcuno in passato con un colpo di pistola in faccia. Valerie si era autoconvinta che Jeffrey in quel momento stesse letteralmente confessando l'omicidio del fratello di Robert avvenuto negli anni 90. Gli investigatori sono convinti che Valerie abbia fatto quella confessione a Robert nella speranza di scatenare qualcosa e quindi di ritrovarsi al centro dell'attenzione nelle settimane seguenti. Robert però si è limitato qualche giorno dopo ad andare a casa di Valerie per parlare con Jeffrey. I due sono rimasti in camera di Jeffrey per circa un quarto d'ora poi ne sono usciti entrambi chiacchierando e scherzando. Sembra dunque che non ci fossero problemi. La mattina del 7 aprile ossia la mattina dopo l'incendio Amber la compagna di Robert nota che l'uomo si comporta in modo strano. Ha passato la notte fuori e quando era incasato qualcosa sembrava essere cambiato. Lui sembrava diverso. Prima di tutto ha del nastro adesivo attorno a un dito. Fa una telefonata qualcuno e dice chiaramente è solo andato lì. Tutto a posto. Ora può riposare in pace. Amber a questo punto cerca di ragionare. Facciamolo con lei. 1. Sa che Robert ama il fuoco. È un vero e proprio piromane. 2. Durante la notte appena passata c'è stato un incendio nella casa in cui vive Valerie. 3. E ultimo elemento. La chiamata che ha ascoltato poco prima. Amber capisce che Robert ha fatto qualcosa di grave. Quindi prepara una borsa in fretta e furia. La donna conosce un posto in cui possono andare a rifugiarsi mentre Robert riflette su cosa fare. Amber quindi porta Robert a casa di un'amica. Non tanto per nasconderla ma perché vuole provare a parlarci visto che lui a questo punto vuole semplicemente a quanto dice farsi ammazzare dalla polizia. Contemporaneamente la polizia dà il via alle ricerche per trovare Robert Turner. Gli investigatori diffondono la sua foto. Tutte le forze dell'ordine a disposizione in quel momento sono sulle sue tracce. Arriviamo al 17 aprile. 11 giorni dopo l'omicidio è lo stesso Robert a consegnarsi alle forze dell'ordine. Ma anche con due sospettati in custodia due mesi dopo la polizia continua a cercare di capire il vero ruolo di Valerie nella vicenda. Le possibilità alla fine sono due. O Valerie è testimone oppure complice. La polizia ritiene inoltre che se Valerie fosse stata una testimone totalmente innocente non avrebbe avuto motivo di mentire alla polizia durante i suoi primi interrogatori. Con l'arrivo dei risultati della scientifica la situazione diventa molto più chiara. Sulla scena del crimine sono stati trovati dei guanti di lattice. Uno dei due presenta una goccia di sangue sulla punta di un dito. Gli analisi stabiliscono che il sangue di Jeffrey mentre il DNA all'interno di entrambi i guanti è proprio di Valerie. La donna ha quindi indossato dei guanti di lattice con sopra il sangue di Jeffrey. Con le nuove prove in mano il 23 giugno i detective convocano Valerie per un terzo interrogatorio. Le mostrano i guanti di lattice e un coltello. Anche quest'ultima arma era sulla scena del crimine ma all'interno del sacco della spazzatura rinvenuto accanto al corpo senza vita di Jeffrey. La versione di Valerie a questo punto cambia per forza un'altra volta. Ammette di aver accoltellato Jeff ma sostiene di non avere inflitto colpi mortali e quindi anche Valerie viene arrestata. I tre sospettati sono finalmente in carcere. Il processo inizia nel luglio del 2011 e Valerie cambia nuovamente versione dichiarando di aver solo fatto finta di accoltellare Jeffrey temendo che Robert potesse fare del male alla sua famiglia. L'accusa sostiene che quella sera Jeffrey è caduta in una trappola. Valerie aveva mandato diversi messaggi sia ad Allen Perryman che a Robert Turner per informarli sulla posizione di Jeffrey all'interno della casa. Robert era entrato dall'ingresso e gli aveva sparato per due volte con il fucile. Il primo colpo aveva colpito Jeffrey in faccia mentre il secondo si era conficcato nella spalla. Era seguita una collutazione perché Jeffrey seppur ferito non era fuori combattimento. Mentre Robert pensava a Jeffrey Allen faceva la guardia alla porta così che nessuno potesse uscire o entrare nell'abitazione. A quel punto Robert aveva urlato a Valerie di prendere un coltello. La donna si era infilata i guanti di lattici e aveva afferrato due coltelli da cucina. Uno lo aveva dato a Robert e insieme avevano iniziato a pugnalare Jeffrey su tutto il corpo e in faccia. Poi tutti e tre si erano allontanati da Jeffrey che era a terra e qualcuno era andato a prendere la benzina che si trovava in garage. È a questo punto che Jeffrey era riuscito a rialzarsi e aveva provato ad uscire dalla casa senza successo. Allen lo aveva quindi bloccato a terra sul pavimento mentre Robert lo riempiva di calci. Quando Jeffrey aveva smesso di muoversi avevano afferrato la tannica di benzina, l'avevano versata sul corpo e gli avevano dato fuoco. E qui c'è la parte secondo me più terribile. L'autopsia ha accertato che Jeffrey a quel punto non era ancora morto. Quest'uomo è stato letteralmente torturato e infine bruciato vivo all'età di 48 anni. Non verrà mai stabilito chi ha materialmente appiccato il fuoco. Una volta scoppiato l'incendio i tre sono andati letteralmente nel panico. Sono scappati con l'auto di Allen e la polizia li ha fermati. Robert è riuscito a fuggire a piedri mentre Valerie si è nascosta e l'agente di polizia che ha trovato la pipetta per consumare sostanze in macchina non l'ha vista. Il movente dell'omicidio è tremendo quanto banale. Robert cercava vendetta. Secondo lui non c'era alcun dubbio. Jeffrey aveva ucciso suo fratello William detto Moose 15 anni prima e doveva pagarla. Col seno di poi Valerie probabilmente non ha ottenuto quello che sperava con la storia delle molestie e quindi ha pensato all'unica cosa che avrebbe convinto Robert. Ossia la storia di suo fratello. La polizia però esclude che Jeffrey abbia potuto uccidere il fratello di Robert negli anni 90 in quanto era in servizio ad Atlanta e in Georgia con la guardia costiera americana. Cioè insomma non poteva materialmente centrare nulla con quel delitto incidente che era avvenuto in California. Non emergono prove che Jeffrey fosse entrato in una banda criminale né che avesse molestato Valerie. Robert viene accusato di incendio doloso, omicidio di primo grado e tortura. Valerie viene accusata di incendio doloso e omicidio di primo grado mentre Alan Perryman di omicidio di secondo grado. Nel luglio del 2011 Valerie Nestler viene condannata ad un minimo di 26 anni fino al carcere a vita ovvero potrà beneficiare della libertà condizionale nel 2037 all'età di 53 anni. Alan Perryman riceve una condanna a 15 anni e ha potuto beneficiare della libertà condizionale nel 2022 mentre Robert Turner viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Io ho finito di parlare di questo caso e l'ho trovato assurdo perché è incredibile come una battuta, battuta non è una battuta, comunque un'affermazione buttata lì in un momento a caso possa portare a una situazione del genere. Il fatto che Jeffrey avesse detto quelle cose a Valerie non portavano al fatto che Jeffrey avesse ammazzato Moose, semplicemente probabilmente ha detto io l'ho ucciso col pendolo, insomma ho ucciso un uomo col pendolo in faccia e quindi Moose era morto più o meno nello stesso modo e tant'è. Ma è assurdo perché poi tra l'altro non emergono neanche prove del fatto che Jeffrey avesse commesso un omicidio, quindi probabilmente anche lui era lì tutto fuso dalle sostanze e ha sparato una cazzata letteralmente giusto per magari farsi forte davanti o farsi figo davanti a una ragazza che le piaceva, ossia Valerie. È tragica questa storia e anche strana onestamente, quindi voglio sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Come al solito, quindi ci vecchiamo nei commenti, io vi leggo sempre tutti e io ne fra un po' mi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!